Allora, quello che adesso vi faccio vedere è praticamente un po' il secondo incontro che stiamo facendo per questo progetto e l'obiettivo di questo secondo incontro è di darvi un po' gli aggiornamenti, perché vedo che ci sono un po' tutte le persone interessate al progetto stesso, per la realizzazione del progetto stesso. Allora, le novità sono, gli aggiornamenti sono questi, praticamente sono tre punti importanti. Allora, la consegna del progetto con i preventivi all'assessore Maresca, ve ne avevo accennato la volta scorsa, l'assessore Maresca è l'assessore al Comune di Genova responsabile della portualità. Posso già anticipare che ha già concordato un incontro con l'ente porto. Poi i dettagli ve li do dopo per la questione proprio del finanziamento. La seconda notizia, deve fissare l'appuntamento, non è ancora fissato. Mi ha detto che comunque chiamerà. Adesso però, ecco, scusate, mi chiedevo se mi fate la cortesia di spegnere i microfoni e poi vediamo, poi ci inseriamo. Io ho tutta questa mia presentazione da fare. Allora, l'altro è l'altra notizia che ARPAL sostanzialmente ci ha scritto che per tutta una serie di motivi che adesso poi vi dirò, non faranno parte del gruppo, del Comitato Tecnico Scientifico e questo, vabbè, mi metto un po' in difficoltà, ma la cosa sta così e pazienza. Ne faremo a meno. L'altra è il terzo punto che, ripeto, poi adesso vi amplierò un pochino con qualche dettaglio, è che l'Ecoistituto, che ha partecipato al progetto Patto Giovani, possiamo confermarvi che questo progetto che adesso, che Aria tira dal porto, è sostanzialmente compatibile con il patto stesso. E quindi, come dire, andrà avanti, tra l'altro con tutta una serie di adesioni che poi vi racconterò. Finirò con un quarto punto dove darò qualche elemento in più su che cosa pensiamo di usare per fare partire, per fare queste mappe, per fare i campionamenti, per ottenere i risultati che ci stiamo riproponendo. Allora, intanto, vi invito a prendere nota di questa informazione di servizio. Allora, intanto, il testo completo, quindi definitivo, adesso ho fatto salvo adesso il fatto che all'ARPAT, in qualche modo, ARPAL si è defilata. Il progetto definitivo, quindi nel testo definitivo, compreso la cosa più importante del preventivo, ecco, sentivo, scusate spegnete i microfoni perché poi ci siamo più rante che varie. Comunque, è questo che troverete comunque sul sito di Ecoistituto. Quindi l'indirizzo è questo, dovete andare alla voce della scheda proposta progettuale e troverete l'intero testo integrale del programma. Quindi questo sostanzialmente è il testo definitivo che pensiamo possa andare avanti e magari appara, vorrei vedere i dettagli. Allora, la registrazione del primo incontro, quindi quello che ha preceduto questo di oggi, lo potete trovare sulla pagina Facebook di Ecoistituto. L'indirizzo è quello, un pochino articolato, comunque se andate nella pagina Facebook, andate a vedere video, lo trovate. Non so se potete scaricare da subito questa cosa che vedete. Ecco, infine la cosa forse più importante è il contatto di posta elettronica, che è l'indirizzo di Ecoistituto, quindi Ecoistituto Rege, a Reggio Emilia Genova, chiocciolagmail.com. Vi invito a tutti quelli interessati, quindi a voi che siete presenti, di mandarmi un messaggio con i vostri click-up e riferimenti, eventualmente con due righe di spiegazione del ruolo che state avendo, perché, ripeto, non vi conosco tutti personalmente e quindi ho bisogno di avere il quadro della situazione al più presto possibile. Allora, a questo punto, ecco, quindi siamo qui sui preventivi, che è la parte più delicata, se volete. Io qui in sintesi vi ho messo a fianco i due preventivi che abbiamo fatto per venire al comune, sostanzialmente, a Genova Smart City. sono due preventivi molto importanti, di cui uno c'è quella ipotesi ottimale, sono 113 mila euro, tanto per capirci, chilo euro sta per mille, 113 mila euro. Quello che abbiamo ritenuto ipotesi minima è sono 55 mila rotti euro. Allora, come potete poi vedere con calma, magari l'ho andata a vedere sul programma che abbiamo nel nostro sito, le voci più importanti sono sostanzialmente le analisi. Quindi, perché dovremmo acquistare i campionatori, fare le analisi, dovremmo acquistare le centraline che anche loro hanno un costo non particolarmente piccolo. Però le voci più grosse sono comunque i campionamenti. Campionamenti che si possono in parte ridurre, che ho ridotto nella voce dei costi nell'ipotesi minima, ma che comunque sono importanti. Ecco, vedremo da questo incontro con l'Elteporto che cifre loro sono destinati, che hanno la possibilità di contribuire, di darci per poter realizzare questo progetto. Allora, come ho accennato prima, con l'assessore Maresca abbiamo concordato un incontro a breve. Io ho già mandato una mail, come lui mi ha chiesto, al suo assessorato, accennando che la mia disponibilità a partecipare, ovviamente aspettando che lui ci comunichi la data. Ripeto, incontreremo proprio i responsabili della direzione ambiente dell'autorità portuale che conosce già il progetto e che a suo tempo aveva anche espresso un parere positivo perché riteneva che, come dire, parlare, fare in modo che la popolazione conoscesse le problematiche e conoscesse anche perché no, quello che l'Elteporto sta facendo, farà per ridurre le emissioni delle navi, è una cosa importante. Ecco, su questo posso accennare che con Maresca ne abbiamo un po' parlato, lui diceva, sì, in effetti ci sono, il problema sono questi vecchi traghetti che fumano un po' troppo. Vabbè, vedremo cosa si potrà fare. Ovviamente non dipende a noi che questi non arrivino a Genova, ma se sanno di essere controllati come sono controllati, forse gli armatori ci penseranno. L'ARPAL. Ora, ARPAL, come accennato, si è un po' defilata. I motivi sono il carico di lavoro, questo perché, nuovo, aggiuntivo, perché ARPAL fa parte di un progetto europeo chiamato AER Nostrum, tra l'altro proprio dedicato alla ricaduta delle emissioni portuali sulla nostra città. quindi c'è questo impegno abbastanza gravoso, immagino, anche dal punto di vista analitico e strumentale. C'è stato anche un cambio, diciamo, completo degli incarchi della dirigenza, per cui c'è stata tutta una rotazione, per cui tutte le persone, compreso appunto il direttore scientifico, con cui avevamo da tempo instaurato un ottimo rapporto di collaborazione, è andato ad altro incarico, sostituito da nove persone, sostanzialmente, che non conoscono, o perlomeno con meno conoscenze del progetto. Quindi loro si, praticamente non faranno, espressamente mi hanno detto che non faranno parte del comitato tecnico scientifico, e va bene. Però resta disponibile, questo me l'ha messo per iscritto, ad effettuare analisi su campioni che noi dobbiamo fargli per venire, i loro laboratori. E va bene. Vediamo la novità del patto per giovani. Allora, intanto, Ecoistituto ha sottoscritto formalmente il patto, quindi questo ci ha... Noi siamo entrati a far parte di questa associazione temporanea di scopo. Sono centinaia e passa di associazioni, comitati, gruppi, che operano a livello genovese, che hanno aderito al patto. Allora, in questo patto, quello specifico per i giovani, abbiamo oppurato che coinvolge i giovani da 10 a 30 anni. Adesso non sono sicurissimo che questa sia il massimo d'età. Questo già è importante perché ci permette comunque di interagire, e questo poi adesso lo vedremo, con le scuole medie, le scuole superiori, perché potrebbero essere i soggetti giovani che potremmo coinvolgere attraverso le loro scuole per fare azioni che, appunto, come vedete, l'obiettivo di questo patto è quello di promuovere il protagonismo dei giovani con la partecipazione di attività a carattere sociale, culturale e ambientale. Questa è un'estrema sintesi dell'argomento trattato e noi rientriamo a tutti gli effetti in questo obiettivo. Allora, la nostra proposta cosa prevede? Diciamo subito che questa è una proposta preliminare alla luce di quello che ci è stato detto e dai primi contatti che abbiamo. Quindi tutto un discorso da sviluppare in modo molto adeguato quando, appunto, giovedì, all'incontro che avremo con tutti coloro che hanno aderito al patto, avremo qualche elemento in più per poter decidere come andare avanti. Comunque l'ipotesi che facciamo era quello che gli studenti di scuole medie superiori, allora io ho indicato Feggino, che per chi non conosce, non conosce, non ha anche familiarità con questo quartiere, è un quartiere nell'Alta Val Polcevera che ha grossi problemi di presenza di depositi petrolchimici e adesso di lavori, di grandi opere che comportano, appunto, scavi di gallerie, insomma, di altre cose. San Teodoro, che penso che sia il quartiere che è più sottoposto alle edizioni del Portuali, è un quartiere di controllo. Stavamo ragionando che poteva essere San Fruttuoso, forse lo stesso Bogliasco. Ora, tutti questi studenti, che dovremmo coinvolgere ovviamente attraverso i loro insegnanti, attraverso animatori che adesso vedremo di attivare, diventano sentinelli dell'aria, mi sono inventato questo nome, e che quindi adeguatamente informati e formati per questo scopo, in qualche modo andranno a verificare, aiutarci a verificare la qualità dell'aria, sia delle loro aule, e della loro scuola, ma anche appunto del loro quartiere. Si è aggregato, e qui ho parlato principalmente col preside che è molto interessato, gli studenti del Nautico. Quindi il Nautico ha sede a Galata, quindi la zona portuale. Il loro preside si è detto molto disponibile tanto a ospitare più centraline di quelle che stiamo predisponendo, ma si è anche accennato la possibilità che i ragazzi, gli studenti degli ultimi anni, nell'ambito del loro curriculum scolastico, possano diventare dei tutor, quindi informati a loro volta, per la gestione dei dati delle mine centraline e dei campionatori passivi. Quindi a loro volta potrebbero essere proprio gli studenti del Nautico che, dopo essere stati a loro volta adeguatamente formati, possono andare nelle varie scuole che partecipano al progetto per spiegare il funzionamento degli impianti, delle centraline, l'uso dei campionatori passivi, prevedere, provvedere per esempio a registrare gli indirizzi degli studenti, e poi consegnarli questi campionatori e andarle a ritirare. Non escludo che possono anche, in qualche modo, gestire anche la parte dei campionatori stessi, la parte dell'elaborazione dati, vediamo. Allora, quindi la proposta, ripeto, quella nell'ambito di questo progetto giovane è quello di, come c'è nato, tenere sotto controllo la qualità dell'aria, scusate l'errore, che respirano gli alunni, con sensori ospitati in classe. Quest'idea mi è venuta perché è riuscita la notizia che alcune, mi pare, che scuole, al solito del, non so se del Trentino, tutte le scuole hanno un sensore per misurare, per esempio, l'aride carbonica, prevedere quando l'aride carbonica è arrivata a livelli molto alti, questo vuol dire, ovviamente l'aride carbonica che mettono i ragazzi, gli alunni, vuol dire che bisogna cambiare aria. E questo, ovviamente, è un elemento di tutela della salute di questi ragazzi, anche per quanto riguarda il Covid, perché, ovviamente, con il cambio aria c'è anche minore probabilità di un accumulo del virus. Sensori, perché cosa? Podorone di carbonica, la formaldeide, i composti organici volatili, COV, questo vuol dire, che sono i classici inquinanti cosiddetti indoor, degli ambienti interni. Poi vedremo un attimo un'ipotesi di strumento. Ecco, mentre sulla terrazza della scuola ci sarà una delle mini centraline di quelle che abbiamo già posizionato in città, tra l'altro giovedì verrà posizionata la terza centralina alle spalle del porto, per misurare le polvere sottili, ultrasottili, PM2,5 e PM10. Il compito di questi ragazzi informati sarà anche quello di portare a casa campionatori passivi per il monitoraggio in continuo di composti organici volatili, di biossidi e d'azoto e per realizzare, con i dati che questi campionatori passivi ci forniscono, le rispettive mappe di inquinamento dell'aria del loro quartiere. Questa è un po' la parte nuova, la novità, che poi farò vedere degli esempi perché mi sembra la parte più importante di questo compito delle sentinelle appunto dell'aria. Allora, qui avete, questi sono l'attuale elenco che abbiamo mandato della rete che il piano giovani richiede. Insomma, praticamente i finanziamenti, l'entità del finanziamento sarà anche in funzione della rete che è stata costruita intorno a un progetto. Quindi il progetto viene finanziato e riceverà più denaro, così io capisco, se molti più soggetti aderiscono a questo progetto. Il progetto a questo punto è il nostro. Al momento hanno aderito, adesso qui è presente un loro rappresentante, il Centro Solidarietà Genova Onlus che ha aderito al patto, quindi è presente, avrei già parlato con lui, penso che poi magari lo sentiremo subito dopo appunto il suo, ci racconterà cosa stanno facendo perché mi sembrano soggetti adeguato. Insieme a lui c'è l'Istituto Comprensivo di Bolzaneto che è stato allertato, che probabilmente aderirà anche esso come partner esterno. Ecco, tengo a precisare che la normativa, diciamo, di questo progetto prevede che ci siano anche partner esterni, quindi che non hanno aderito formalmente al patto, però che possono partecipare a tutti gli effetti. Quindi abbiamo l'Istituto Comprensivo di Bolzaneto, io ho pensato all'Istituto Comprensivo di Santo D'Oro, quindi qui dovremmo avere in qualche modo qualche insegnante di questo istituto, l'Istituto Nautico San Giorgio di cui ho accennato prima, l'associazione, e qui sono un gruppo di ragazzi, di cittadini sostenibili, e quindi un'associazione vera e propria che mi ha già dato l'adesione. Infine, i comitati cittadini a tutela, ambiente e salute, che sono i vari comitati in cui qualcuno appunto abbiamo qui presente oggi, stasera, che a loro volta se formalizzano l'adesione potrebbero entrare a far parte a tutti gli effetti, ripeto, senza oneri particolari se non quelli di mettere a disposizione persone, eventualmente perché no, hanno anche competenze o anche un minimo di aiuto. Ecco, sono poi, come qui potete vedere, sono i contatti che io pensavo di avere, ma col plesso scolastico di Bogliasco che potrebbe diventare essere lui la loro età di controllo. Qui, ricordo, abbiamo già una centralina che sto ospitando a casa mia, che potrebbe aggiungersi a una centralina magari ospitata dalla scuola di Bogliasco. E poi altri collegamenti che potrebbero venire. Il progetto, come appunto già sappiamo, ha già una collaborazione scientifica con il Dipartimento di Chimica dell'Università di Genova ed è presente il loro responsabile. Allora, vediamo la ultima parte che chiediamo materiale e metodi come usiamo noi in campo di ricerca. per dare un'idea un pochino più precisa di cosa pensiamo che sia il materiale che ci serve e che verrà messo a disposizione intanto delle scuole e anche dei vari partecipanti, dei cittadini che vorranno aderire al progetto. Ora, questo è un esempio del sensore che potrebbe essere, non a costi molto elevati, potrebbe entrare nelle aule. Questo sensore in particolare misura l'ossido di carbonio, l'arindire carbonica, la forbaldeide, quello HCOH e i VOC. Poi, vabbè, elaborano uno standard di qualità dell'aria che è quello AQI. Allora, in questo modo, come dicevo, con i parametri che questo tipo di sensore può fornire, l'aula, la scuola, può regolarsi appunto per i cambi d'aria ma può anche fare dei semplici esperimenti un po' ne ho pensati e qui il comitato, adesso non so se sono presenti le insegnanti del Diego Istituto che si erano andati disponibili per elaborare queste cose, potremmo farle insieme. Ecco qui, va bene, questa è la centralina per le polveri sottili. Nel cerchio rosso vedete inquadrata la centralina che in questo momento sul tetto di una casa di via Milano sta monitorando l'aria che gli arriva. come vedete davanti a lui questa centralina ha i traghetti più lontano ci sono le navi da crociere sulla sinistra di questa immagine. La centralina è in funzione da un qualche tempo quello che vedete è attaccato al palo quindi a una certa distanza dalla superficie e la centralina vera e propria che è quella in basso c'è la parte elettrica dei collegamenti elettrici in alto la centralina vera e propria che provvede al campionamento dell'aria in continuo e alla trasmissione attraverso quel cavo che esce dalla centrina stessa tramite internet e dei dati in tempo reale. Dati che non so se avete già visto potete andare a controllare già adesso se volete andando a vedere nel sito che aria tira che fornisce esattamente questi dati. Ecco per darvi un'idea di come potrebbe funzionare la centrina sentinella è un esempio che vi faccio vedere è proprio di qualche altro giorno siamo a Bogliasco io ero alla stazione in attesa della Corriera per andare a Genova vedo questo fumo che si sviluppava probabilmente a Sori quindi molto distante dal paese stanno probabilmente bruciando delle ramaglie ho preso conto dell'ora ero intorno alle 10 e in tempo reale sono andato a vedere cosa mi segnava la centralina che era a casa mia poco distante da quell'edificio che vedete sulla destra in primo piano. Ecco come potete vedere e qui il grafico abbiamo due picchi uno intorno alle 6.30 a 7 questa è una cosa che tutti i giorni la mia centralina evidenzia quasi sicuramente è il passaggio della spazzatrice che la mattina passa per le vie principali del paese per pulirla però ovviamente sollevando anche delle polveri che vanno a finire presso la centralina. Intorno alle 10.30 la qualità dell'arco siamo le PM2.5 si alza improvvisamente per arrivare vedete intorno ai 35 dunque il valore massimo è stato 34 microgrammi per metro cubo supera quella linea rossa che in qualche modo dà un'informazione su qual è il limite della qualità dell'area per il PM2.5 dura per ancora una mezz'oretta tre quarti d'ora e poi torna ai valori normali. Quello è il fumo che ripeto a distanza di forse di un chilometro qualcosa di più è arrivato a casa mia. Immaginate che quel fumo possa essere il fumo di una nave della ceminiere di una nave in partenza e le centraline se sono nel cono di ricaduta dei fumi le misura sicuramente perché hanno un'elevata sensibilità una risposta molto veloce e una buona attendibilità per quanto riguarda l'ordine di grandezza delle misure. Poi su questo magari se volete possiamo parlare un attimo dopo. Questi invece sono un esempio dei campionatori che verranno dati ai ragazzini o comunque ai partecipanti del progetto per i cosiddetti campionatori passivi. Ne avete due tipi questi nel triangolo azzurro in due formati con quel cilindro in posizione sia verticale che orizzontale e a fianco un altro tipo un altro cilindro messo in posizione verticale. Allora i primi si chiamano Radiello questo è il loro nome commerciale entrambi questi prodotti sia Radiello sia appunto l'altro campionatore di fusione della Gravco l'azienda che li produce sono assolutamente certificati in qualche modo e servono per misurare che cosa? Allora gli ossidi d'azoto e i composti organici volatili a seconda del tipo di cartuccia che viene usato per esempio per il radiello. Ce n'è però un altro tipo che vedete in questa immagine è quel tubo in acciaio che è quello che io ho usato nel lavoro che abbiamo fatto come chimica ambientale a liste di Genova ha la stessa funzione ed è dedicata per l'analisi di composti organici volatili ripeto poi non entriamo nel dettaglio però vi voglio far vedere allora intanto per esempio a questi campionatori della Perkinerme che li produce i due usi come vedete personali proprio indossati letteralmente nella forma che vedete vabbè questo sul sottoscritto sono io che sto facendo appunto il come dire il portatore di campionatore mobile e l'altro me l'ha fatto accanto allora qui siamo a Cairo Montenotte le due persone che vedete in immagine sono due miei collaboratori colleghi dell'IST perché stiamo facendo un monitoraggio in questo caso appunto dei VOC anzi addirittura del composto organici composto organici volatili presso la cocheria se non ricordo male di Cairo Montenotte ecco nel cerchietto rosso c'è il campionatore fisso che è stato posizionato per fare in continuo questo campionatore ecco qui vedete un particolare insomma di come il campionatore passivo può essere messo su un balo su un supporto qui invece qui vedete l'altra versione proprio la versione urbana lo stesso campionatore appeso in questo caso alla persiana di casa è una delle possibilità che si può fare ripeto abbiamo fatto un'ampia sperimentazione di queste cose la cosa funziona e adesso vi faccio vedere anche alcuni studi alcuni risultati che hanno utilizzato questo tipo di campionatori allora questa immagine vi fa vedere allora vedete praticamente allora i singoli le X che vedete sono punti di monitoraggio di ragazzini delle scuole medie di Cornigliano a cui è stato affidato uno di quei campionatori che hanno portato a casa e noi gli abbiamo detto le loro case sono state scelte in base al fatto che abitassero ai piani alti o ai piani bassi del quartiere quindi i singoli punti sono i punti di monitoraggio quindi abbiamo come vedete distribuito una trentina di campionatori quelle colori che vedete i numeri che vedete sono le concentrazioni come varia la concentrazione di benzene in base alle misure fatte in quei singoli punti per cui come dire con questa mappa di isoconcentrazione possiamo vedere come è distribuita in questo caso il benzene nel 15 maggio al 21 quindi sono 15 giorni di campionamento siamo nel 1999 vabbè comunque la cosa ha funzionato e in alto quello che vedete è la rosa dei venti durante quel periodo di campionamento in cui la maggior parte degli eventi sono stati eventi da nord la rosa dei venti indica la direzione da cui viene il vento però come vedete c'è una componente abbastanza importante di venti sul quadrante sud quella che in cui la parte urbana della città era sottoposto alle emissioni della cocheria quello che ci dice questa misura è che i valori più alti sostanzialmente dei piani alti sono sostanzialmente confrontabili con quelli dei piani bassi il che ci dice che qui abbiamo una fonte che non è il traffico perché il traffico si fa sentire se no al secondo piano al già al terzo i suoi effetti sono trascurati e questo ci ha fatto capire il ruolo che la cocheria perché di questo stavamo parlando aveva solo abitato qui praticamente questa è via Cornigliano tanto per capirci e qui siamo ai margini della zona industriale la cocheria si trova a grosso modo in questa zona quello successivo ci può dare un'idea di quello che potremmo fare con i ragazzini secondo il nuovo progetto siamo sempre nel progetto benzene in rete così l'abbiamo denominato siamo nel 2004 e in questo caso 80 studenti e qui li vedete tutte le loro abitazioni sono stati scelti attraverso appunto l'elenco che ci hanno fornito le scuole medie dove questi ragazzi andavano e che abbiamo scelto in modo tale che coprissero come vedete in modo molto ampio ampie parti della città quindi abbiamo a Ponente la zona che riguarda l'aeroporto il porto Petroli e anche alcune cose fatte a Pra abbiamo poi tutta la Val Polcevera e il centro storico il Ponente e qui siamo arrivati probabilmente anche alla parte del quindi un ampio spedio quindi con 80 studenti abbiamo coperto l'intera città abbiamo fatto un monitoraggio anche qua che vedete dal 28 aprile al 5 maggio continuativo del 2004 e il risultato è quello che adesso vedete poi questo andiamo alla fine allora la dimensione dei singoli cerchi che vedete ci danno un'informazione sulle concentrazioni che abbiamo registrato che quel campionatore ha registrato di benzene che il campionatore ha registrato presso ogni casa di ogni ragazzino i cerchi più grandi li troviamo nella zona di fronte al porto petrolio e quindi sono tutte le emissioni che noi presuppiamo durante questo progetto che poi comunque abbiamo confermato essere dovuto alla movimentazione di prodotti petrochimici di quella zona compreso il benzene che se non ricordo male erano dei prodotti utilizzati nella parte dei prodotti chimici altre zone come vedete come dire potenzialmente a rischio sono queste nella zona intorno alla foce abbiamo anche qualche misura dalle parti alte di Bolzanetto dove in questo caso i segnali non sono particolarmente elevati e poi vedremo e con questo però vi vorrei dare un'idea di come questo sistema con questo tipo di sistema e quindi con i progetti che stiamo mettendo in piedi potremmo aggiornare questo dato che ovviamente oggi la situazione è molto diversa ma altrettanto in costa finisco riproponendo i gruppi di lavoro prendetene un attimo date un attimo un'occhiata perché appunto comunque potete scaricarlo eventualmente andando a rivedere ve lo lascio un attimo ancora a qualche momento direi che se ci sono interventi forse potremmo parlare di questo intanto di queste cose che vi ho fatto vedere poi eventualmente andiamo avanti qualcuno che vuol parlare? No no chi vuole chiedere qualcosa può farlo accendo il microfono e se è spento dico due cose io io sono Nicoletta Vacamorta e sono una pedagogista e vi stiamo conoscendo vi abbiamo conosciuto tramite il comitato di quartiere di Fegino con la signora Antonella Marras che ci ha fatto da tramite come centro di solidarietà stiamo lavorando su quel territorio in termini proprio di promozione diciamo della salute e prevenzione diciamo a comportamenti antisociali inadeguati eccetera che riguardano la popolazione giovane diciamo che in realtà come come c'è poi su questo il mio collega Alessio Masnata può essere più preciso siamo interessati ad ampio raggio rispetto un po' al progetto proprio per diverse progettualità che abbiamo come centro di solidarietà e noi siamo dentro il patto per i giovani come sebe Chase chiedo scusa Chase va bene per quanto riguarda e quindi poi magari Alessio dici due cose poi magari diamo la parola ad Alessio vi siete parlati ora che vedevo i gruppi di lavoro secondo me grazie per aver inserito appunto tutta la parte dell'educazione ambientale i rapporti con la scuola l'organizzazione i seminari i corsi learning perché diciamo un po' da addetti ai lavori come operatori come operatori sociali pedagogisti eccetera crediamo molto nell'idea che tutto quello che può essere fatto di pragmatico nelle scuole ha diciamo rispetto un po' all'educazione è fondamentale quindi l'idea di tradurre anche in termini proprio didattici quindi inserendosi laddove possibile nell'attività didattica delle scuole portando questo diciamo questo progetto quindi questo trovo che sia un elemento diciamo fondamentale quindi mi verrebbe da dire la pedagogia dell'ambiente no? inteso come salvaguardia del contesto e dei luoghi che i bambini e i ragazzi abitano proprio per renderli sempre molto più protagonisti delle migliorie che possono essere portate nei loro grandi contesti stavo anche pensando a qualche piccolo esperimento da fare con i ragazzi ovviamente confrontandomi con voi e con i loro insegnanti a seconda del diverso grado di diverse età ovviamente anche diverso livello di informazioni che hanno già ricevuto appunto su che cosa sono una molecola o l'anide carbonica che cosa è insomma per capirci quindi è molto interessante questa cosa quindi sì io penso che possa essere l'occasione appunto per fare proprio come dire farle diventare partecipi l'esperienza che vi ho accennato prima fatto ormai purtroppo in anni passati ha confermato i ragazzini delle media sono molto interessati e abbiamo tenuto come dire anche molto bravi a fare le cose che devono fare perché c'è un minimo di regole da seguire per fare un campionamento ben fatto insomma però un ragazzo ma anche un ragazzo delle medie può tranquillamente farle e ovviamente anche perché poi la fase conclusiva è anche discutere insieme con loro i risultati anche questa è stata un'esperienza didattica che abbiamo fatto noi a questo tempo gli abbiamo fatto vedere i dati e abbiamo ragionato insieme quindi il ricercatore di un istituto scientifico anche di questo stiamo parlando insieme ai ragazzini delle medie che insieme come dire questi sono i risultati che cosa capiamo da questi risultati è stato molto interessante quindi potremmo rifare questa insieme con voi questa esperienza sì perché è il piano del concreto di cui hanno molto sogno assolutamente sì hanno degli oggetti in mano li gestiscono parliamo di casa loro della loro scuola dell'area che loro respirano quella che respirano quando vanno fuori magari a giocare in qualche giardinetto insomma possiamo fare benissimo queste cose io voglio dare la parola a Alessio perché appunto ecco perché io pensavo che anche tra il Chase potremmo anche coinvolgere altri ragazzi non necessariamente questi della scuola che magari hanno anche sono quelli che in qualche modo voi seguite e che se loro sono ovviamente d'accordo potrebbero a loro volta diventare delle sentinelle insomma ma allora intanto ringraziavole Nicoletta per aver anticipato un pochino quello che ad oggi è un po' il nostro mandato allora sì sicuramente la logica di un'interazione sul quartiere di Fegino la vedo fattibile nel senso che comunque sono entrato nella realtà da poco sostituendo il vecchio coordinatore di progetti delle azioni dedicate alla prevenzione e già l'altra sera comunque emergeva la volontà comunque degli abitanti del quartiere di provare a sensibilizzare appunto la popolazione giovanile su aspetti appunto che hanno colpito il quartiere stesso perché comunque ricordiamo che il quartiere ha purtroppo avuto delle invasioni laterali da tutte le disgrazie anche cioè le compromissioni comunque ambientali dovute a Iplom quindi sono molto attenti per quanto riguarda la possibilità di includere anche una popolazione altra rispetto appunto lo studente immagino anche l'utenza che noi abbiamo residente nelle comunità terapeutiche di Trasta dove appunto il problema micropolveri essendo contesto limitrofo agli scavi del terzo valico secondo me può essere di utile attenzione potremmo mettere lì la centralina per le polveri scusa possiamo ragionare poi con calma sì sì o un presidio fisso quindi all'interno della struttura su su qualsiasi tipo di di parete della della comunità diversamente anche l'ipotesi ovviamente conservando la privacy della nostra utenza ma pensare anche appunto a delle sentinelle che domestiche esatto perché noi abbiamo abbiamo più servizi all'interno delle nostre comunità quindi la possibilità anche di distinguere le persone nei vari momenti nel senso la persona che magari lavora all'orto all'interno dei nostri settori lavorativi ha magari un'esposizione differente alle micropolveri rispetto alla persona esposizione personale stai parlando vabbè d'accordo immaginavo già più livelli nel senso un livello sì sì ma tutto dipende dai finanziamenti come puoi immaginarti perché è andata a dare un'occhiata ai costi non costano poco queste analisi quindi sono soldi che dobbiamo dare a un laboratorio che ci fornisce i campionatori e fa l'analisi quindi e all'elaborazione tra l'altro perché quella sicuramente è una possibilità è una via anche perché la comunità di Trasta rimane proprio sopra gli scavi del Valico e io avendo lavorato lì anni fa anche nel periodo notturno orario notturno gli scavi erano faticosi da gestire durante il turno notturno perché comunque tenevano svegli i ragazzi ma quello che poi liberavano erano appunto polveri micropolveri c'erano sempre questi fumi che fuoriuscivano dalle gallerie quindi sarebbe carino secondo me quello è un punto strategico anche abbastanza intelligente dall'altra parte rinforzo quello che diceva la Nicoletta è sicuramente importante utile incentivare i giovani a sensibilizzarsi alla loro promozione della salute quindi dargli in mano diciamo così l'arnese l'utensile con cui riescono loro stessi a capire che aria respirano secondo me è importantissimo perché passiamo appunto a un'azione concreta sul territorio di Fegino ci stiamo impegnando tanto a riqualificare appunto la zona quindi sarebbe sicuramente un'azione che andrebbe a solidificare idee che abbiamo già strutturato come avevo detto io perché il progetto iniziale come dire puntava sul discorso del porto adesso magari sentiremo anche qualcuno dei comitati interessati a questa cosa però io conoscendo in parte la vostra situazione appunto avrei inserito appunto Trasta e Fegino come io li ho chiamati controllo inquinato cioè voi avete un problema di inquinamento immagino spero spero di sbagliarmi non so pesanti ma che sicuramente sono diversi da quelli che hanno che abita appunto di fronte al porto dove questi fumi sicuramente impattano va bene quindi direi che mi pare importante questo fatto bene se di niente va bene io eviterei un po' tutti poi magari alla fine vi farò rivedere l'indirizzo se per cortesia mi invito l'indirizzo mail che vi ho dato vi date tutti i vostri recapiti magari anche dando indicazione minima di vabbè di cosa vi occupate di cosa rappresentate perché ripeto qui vedo l'elenco ma non vi conosco tutti perché cominceremo poi magari a fare appunto una mailing list dedicata per approfondire questo argomento chi vuol parlare sì semplicemente un saluto sono salvatore mi sono collegato ora non so se troppo presto o troppo siamo nella fase più comunque ascolto e andiamo sì no potevo quindi la notizia che stiamo sui finanziamenti ci sono buone notizie e quindi vedremo un po' volevo dire qualcosa io sì 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 aspetta un attimo saluto mauretti perché ti volevo dire che abbiamo anche un contatto con la università qui di genova che si occupa di informatica hanno sviluppato una piattaforma così la chiamano per l'uso dei dati ecco mi sembrava molto interessante penso che siamo qualcosa molto affine di quello che avete già fatto per la rete ecco se riuscire a integrare meglio tutto questo potrebbe essere utile io domani mattina parlo col direttore che si è dato disponibile vi racconto cosa stiamo facendo e vi faccio anche vedere ovviamente quello che stiamo già l'elaborazione che riusciamo già a fare con l'acquisizione dei dati però insomma mi auguro che possa essere un'ulteriore collaborazione ecco quindi magari se questa cosa va avanti prendo contatti con voi e lo sviluppo è una cosa anche perché le centraline insomma che si sta sviluppando diciamo sono in grado poi di colloquiare e inviare dati beh era quello quello che loro si occupano quindi magari se vi sentite forse è meglio visto che mettete già mano a queste cose se loro c'è questa collaborazione quanto ho capito gratuita ce la mettono a disposizione mi sembra buono perché poi insomma sempre lavorare con l'Università di Genova che è qualificante anche per questo per il nostro progetto c'era Enzo se non sbaglio io volevo semplicemente intanto si prese un attimo perché non tutti ti conoscono come Enzo sono il presidente di Eccostituto di Reggio Emilia Genova e il firmatario dell'ATS non ti preoccupare non sei solo no no vabbè ma eventualmente no volevo solo specificare intanto che l'età massima è 35 anni ecco appunto non ero sicuro bene d'accordo meglio no no 35 ora poi si perché poi non ho trovato documenti ufficiali che mi sono tenuto basso quello ufficiale dei 35 saranno fuori corso probabilmente cosa vuoi che ti dico ah no quelli del Dautico l'altro l'altra questione è che il Genova Smart City non è che sia solo il comune tanto per che si è fatto bene in qualche modo è una specie di consorzio per cui vabbè certamente per quello che avevi detto anche tu l'eventuale autorizzazione a spendere comunque deve venire da partner avevano così stabilito in qualche modo da parte come l'autorità di sistema portuale e il comune che sono i più interessati gli altri c'è Simens ci sono dentro delle società per cui non è che siano particolarmente interessati alla nostra attività se non anche perché il discorso è che i tempi qua sono stretti come sa anche Chase perché il il patto dovrebbe chiudersi settembre ottobre massimo non è che vada più avanti e comunque quindi i tempi saranno effettivamente da controllare in modo stretto sì guarda posso anticipare scusami perché l'importante è quello che dici ma il campionamento a questo punto quello passivo potremo partire come avete visto aprile per dirne una quindi ovviamente preparare tutto quanto prima ad restare i ragazzini e poi ad aprile si potrebbe fare questa campagna estesa come avete visto 80 campionatori vuol dire 80 ragazzi che si attivano ecco i numeri potrebbero essere cioè i numeri possono essere questi anche molto importanti io ovviamente focalizzerei l'attenzione su appunto tra staffeggino e la e la parte del quindi vediamo San Teodoro se non so se c'è qualche insegnante qualcuno che del San Teodoro scusami prenderei la parola per dirvi che siamo già mostri abbiamo l'adesione di una scuola media c'è la nostra referente che si sta interessanti non è presente comunque non è presente va bene d'accordo va a esserci un capito no no ci sono ci sono ecco era palomba buonasera ci sei ma senza viso sei nascosta sono i servizi segreti questa cosa sì non so come mai non sono riuscita ad attivare il video ma mi puoi ricordare il tuo nome ti dispiace così me lo segno certo sono Milena Lanzetta ecco sì d'accordo tu ci hai seguito di che scuola allora io sono presidente di un'associazione che si chiama Genova Senza Confini sono un ex insegnante e che ha rapporti appunto con scuole sia primarie che medie e con le quali potrei mettermi appunto in contatto per per attivare questo voi non siete nel patto non l'avete firmato no non l'accordo però come ho detto prima è previsto che appunto associazioni con questo genere aderiscano a tutti gli effetti quindi come dire aumentano i nodi della rete a tutti gli effetti quindi anche se non avete firmato aumenta la probabilità che i finanziamenti arrivino in modo generoso insomma questo progetto che si allarga appunto con i vari componenti questo è almeno quello che vedremo questo fatto scusami speriamo anche perché siamo un'associazione comunque sul territorio radicata proprio lì sul territorio di Sant'Eodoro quindi siamo abbiamo titolo per poter lavorare in questo senso ecco io avevo già parlato appunto con Giovanni Coiana proprio perché abbiamo fatto una bella conversazione e mi sembra che possiamo dare il nostro contributo assolutamente sì posso bene posso dire Nicoletta Vacamorta sempre mi scusate uno Milena Lanzetta ci conosciamo sono Nicoletta Vacamorta ah sì di persona ciao 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 bene vedi che allora ecco siamo sulla strada buona insomma ok ci si incrocia l'altra cosa è quante ore dura la formazione ai ragazzi questo è tutto ora questo è tutto da programmare perché ripeto è da farlo anche insieme insomma adesso non so se è il caso di aspettare ancora qualche giorno per capire è una cosa che poi gli insegnanti i dirigenti chiedono sì 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 no no lo so è tutto da capire in base a cosa vogliamo fare e quindi come dire noi possiamo anche ecco diciamo così potremmo già acquisire le disponibilità appunto ai gruppi di lavoro e quindi ripeto se mi lasciate il nome tutto io poi cercherò di mettervi in contatto potremmo fare anche un incontro dedicato alla parte didattica per cercare di pensare appunto un progetto veloce perché i tempi sono veramente molto stretti ma quindi limitarci comunque diciamo studiare un progetto didattico fare il progetto vedere chi lo fa dove operiamo e le tempistiche bene bene possiamo andare ripeto una chiacchierata di un'oretta in cui spieghiamo ai bambini ai ragazzi come come funziona quel cilindetto che gli diamo cosa devono fare per portarla a casa cosa ci devono cosa devono scrivere che ne so oppure come controllano i dati della centralina andando a vedere col cellulare che immagino possono avere anche già l'oro di loro quindi può essere anche un'oretta però potremmo anche fare cose più articolate del tempo ovviamente dobbiamo tenere conto delle esigenze delle scuole certo sì sì mi pare chi frequenta la scuola certo i primi che diranno ci danno le indicazioni di come procedere che io comunque nel nostro progetto c'è anche tutto un diciamo un pacchetto di learning che può essere utilizzato anche successivamente anche se è dedicato più diciamo agli studenti di una certa età non sono almeno per come è stato fino adesso concepito non è che sia stato ancora varato però abbiamo dei titoli abbiamo anche dei tutor e via dicendo però chiaramente non è una lezione frontale in questo caso mentre penso che in certe scuole sia più importante questo tipo di insegnamento sul pezzo abbiamo avuto già conferma che le scuole comunque sono aperte e fatto salvo tutti i criteri di sicurezza che dobbiamo adottare tutti quanti sarà possibile farlo in presenza queste cose questo è quello che mi ha detto il preside del Nautico ho tanto per dire adesso poi non so se mi dovete confermare io ho quello che suggerirei appunto anche qui chi di noi del Costituto si sta occupando dei tutor non so se siamo presenti perché ho difficoltà a seguire tutto quanto comunque li sentiremo da convocarci per ragionare esattamente in modo operativo su queste cose allora scusa Vacca Morta quindi scusami tu quindi ah beh è spenta adesso ok va bene un altro che vuole intervenire comunque nel Costituto c'è Maria Rita Schiatti ecco c'è Schiatti ok Schiatti possiamo sentire non c'è? sì che c'è io almeno la vedo Maria Rita se non ci sente e spento il microfono sei Maria Rita Maria Rita non vedo neanche la fotografia no l'enreco c'è però il microfono è il microfono spento vabbè comunque mi provo a mandare un messaggio vabbè qualcun altro che vuole intervenire? c'è nessun altro c'è nessun altro? ha attivato il microfono Maria Rita ha attivato? sì ma non parlo Maria Rita ci senti? si è aperto a questo punto se c'è qualcun altro che vuole parlare c'è Ferrelli io volevo sentirlo un attimo perché l'idea che anche Multedo possa una scuola di Multedo possa partecipare mi sembrava non mi vedi e non mi senti ti sento poco ma ti sento ti intravedo sì adesso mi vedi meglio sì allora lo sai a me interessa molto la cosa però sono in attività quindi il tempo che vi posso dedicare no no d'accordo molto scarso erano eventuali contatti con scuole appunto della parte passa se ritenete come gruppo di Multedo che valga la pena di fare sicuramente noi siamo esposti direi altrettanto come i concittadini di San Teodoro quindi prelevare dei campioni da noi è altrettanto valido e interessante ecco ti posso diciamo dare il posto a un sesto piano quindi può essere anche interessante oltretutto sono ben esposto quindi di lì a dirti che poi ci lavoro attivamente no diciamo che se come comitato pensate di come dire anche di aderire anche formalmente attivi poi siamo in due ecco succede sempre così e quindi vediamo d'accordo cioè non è il radiello costano poi sì 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 lo so i costi li vedi io faccio un migliaio di radielli all'anno ecco io lo so che siete il mestiere va bene vediamo speriamo ragazzi dove posizionali perché altrimenti hanno sono poco attendibili ecco questi campionamenti però diciamo così una tua partecipazione al comitato tecnico scientifico su questi temi ce la puoi dedicare una mezz'oretta insomma sì sicuramente ecco però ti dico non ti aspettare molto no no d'accordo ma sono presente la situazione il lavoro non mi manca ecco meno male me ne vorrei a 75 anni andare in pensione non solo percepire la pensione per fortuna ne ho approfittato vabbè vabbè dai Mariela Federico allora Gian Piero è in linea anche lui perché chi? Gian Piero no Gian Piero chi? Celerino ah Celerino non mi sembra no no la volta scorsa c'era vabbè sentilo quando registriamo chi vuole poi sentiamo ci messaggiamo dalle 6 del mattino va bene d'accordo accendogli a sta cosa che andiamo comunque andiamo avanti Federico Maria Rinda mi ha detto sono collegata ma non capisco come mai non riesco a attivare il mio microfono ho comunque ho comunque una bozza di cornice didattica elaborata da Rosa Frammantino che posso inviare questo è il messaggio vabbè no che lei intanto mi scriva così le mando tutto quanto la documentazione poi fissiamo un appuntamento a breve tra tutti quelli che si occupano della parte didattica in modo tale da concordare appunto un programma in tempi stretti se è il caso di fare delle elaborazioni specifiche vediamo se siamo in tempo e in modo penso che tra l'altro questa cosa si può anche fare senza che ci siano anche se non ci sono finanziamenti stiamo tutti facendo del volontariato e direi che questa cosa la possiamo comunque mettere in piedi va bene mi spiace adesso qualcun altro? intervengo ancora io per dirvi che giovedì incontrerò Comitato Porto Aperto per vedere di combinare non dico una fusione ma comunque una bozza di contratto di mutuo soccorso perfetto anche perché la zona italiana non ci manca è completa rete l'arco e quindi gli proporò anche questa soluzione che abbiamo detto benissimo allora se non c'è nessun altro che vuole intervenire io chiederei facendo rivedere l'indirizzo ecco perché quindi prendete nota perché a questo indirizzo che è l'indirizzo di Ecoistituto se tutti chi ha partecipato anche chi non ha partecipato ma adesso è interessato a dare una mano se ci fa avere una nota e i contatti quindi il cellulare oltre alla vizio post elettronica perché potremo appunto cominciare vedendo questo gruppo che vi pare quello più importante e poi ecco poi mi piacerebbe anche fare un salto a trasta per capire un po' meglio comunque dalle parti vostre per capire un po' meglio la situazione che conosco confesso conosco poco perché per ragionare un po' come come potrebbe essere al meglio diciamo realizzata la rete locale e così via i monitoraggi che da fare nessun altro sì il signor Valerio mi sente? sì io la sento chi è? sono a Callea Limit ah e cos'è Limit scusami sì perché la volevo tanto quando ti scusate si pieghi cos'è Limit non so se tutti quanti dunque brevemente Limit è una situazione di cittadini autofinanziata negli anni e a noi avrà circa 150 stazioni se riesco vi allegro uno screenshot vorreste vederlo in questo momento è un'associazione appunto di cittadini che monitora sostanzialmente il territorio delle stazioni di proprietà e è nata la forma embrionale è nata da una vicina di soci di cui io sono portatori in questo momento del progetto ha preso vigore negli anni è un'associazione che si occupa dell'aspetto clima io poi come portuale sono coinvolto particolarmente oltre a vivere a San Sto potete darci qualche informazione in sostanza potrebbe anche aderire al patto giovani mi pare come associazione a questo punto ovviamente dovete decidere il vostro direttivo ma esattamente dobbiamo parlare nel giro si piacerebbe sia Limit interessato a tutto quello che è clima sì perché voi tanto fornite dei dati utili per noi se poi qualche vostra centralina vuole ospitare come dire serve utile per ospitare anche una centralina per l'inquinamento misurano parallelo appunto condizioni meteo sarebbe interessante immagino che nella zona non solo di Santo Doro ma principalmente in questa ci sarebbe disponibilità sicuramente da parte mia di altri soci ad aderire proprio perché ogni socio che è personalmente responsabile della propria strumentazione può implementarla come meglio crede tutto qui siamo a disposizione credo senza anche farci un po' una lezione per profani su come il tempo a Genova segniamo le lezioni adesso anche in forma telematica o in presenza al mese solitamente che vertono sui principi cardine del prima della climatologia qualche piccola divagazione quanto appunto le condizioni meteo influenzano il livello di inquinamento sarebbe interessante la centralina per esempio ci fa vedere che durante la notte quasi regolarmente la polverosità aumenta dappertutto anche di molto per dirne adesso non voglio entrare nel merito ma che qualcuno di voi ce la spiega come le spiegavo nella mail le nostre centraline sostanzialmente monitorano la situazione tutti i dati climatici a cadenza di pochi secondi e poi se lo sto usando lo sto guardando regolarmente viene catalogata avrei bisogno per prima che qualcuno mi spiega alcune cose ma sono quindi è molto più semplice di quello che sembra certo c'è bisogno di un'apparecchiatura H24 un piccolo budget di partenza va bene poi c'è anche un altro elemento da sviluppare con i nostri ragazzi insieme volentissimo bene grazie mille altri? Ferretti se ci senti perché volevo capire un po' se avevi fatto qualche sull'idea di dare una tesina se ci puoi dire qualcosa se hai qualche elemento in più ci senti ci sei sì sì ho seguito può dire qualcosa però però per il momento come no no ma non volevo no 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 ma come come ti avevo detto le tesine e le tesi di solito vengono date un po' stagionalmente a seconda di quando finiscono i semestri e iniziano quelli appunto delle dei tirocini e delle tesi quindi io mi aspetto che ci possa essere un po' qualcuno che si informa e chiede cosa c'è disponibile a partire dalle prossime settimane se vuoi che facciamo una specie di calling insieme non so esatto se può essere utile sono sui ragazzi come le informi di queste cose sì 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 ma certo volevo un po' sentire le mie le mie colleghe che curano appunto l'informazione rivolta agli studenti e quindi sentire un po' loro perché diciamo l'interesse maggiore potrebbe venire dagli studenti che hanno diciamo preferenza per tesine tirocini in campo in campo analitico e allora pensavo di coinvolgere le mie colleghe di chimica analitica vediamo vediamo se questa opportunità tra l'altro loro se sono immagino a questo punto under 35 potrebbero a tutti gli effetti anche essere partecipi del progetto sono giovani che anche per loro interesse ma inseriti in questa cosa che potrebbero a loro volta ma dire venire anche a fare una non dico una lezioncina anche loro insomma comunque qualche elemento di approfondimenti di alcune tematiche di interesse generale dal punto di vista della chimica chimica ambientale potremmo ragionare anche su questo bene certamente sì sì va bene io mi sono preso mi sono preso un po' di appunti e poi semmai mando sì casomai possiamo anche sentirci se ti fresca o ci sentiamo direttamente oppure mando qualche osservazione nella mail che è in vita perfetto benissimo qualcun altro va bene se non c'è nessuno allora io vi saluto non so se penso l'indirizzo l'avete preso tutti saluto anche Maria Teresa Tucci che ci sta seguendo in remoto pazientemente ecco tra l'altro ciao a tutti ci sei ciao sta registrando quindi manderemo come abbiamo fatto la volta precedente in onda questa registrazione per chi eventualmente non ha potuto partecipare in diretta e comunque interessato niente io adesso le slide cosa fai non l'ho capito le slide le distribuisci le slide è da capire un attimo come farle distribuirle perché il nostro sito comincia a essere pieno ne vediamo un po' ci ragioniamo un po' magari come come co-istituto ci ragioniamo un po' per vedere se riusciamo già a trovare una soluzione tipo un Dropbox o qualche altra cosa dove mettere questi altri elementi perché è un problema cioè volentieri le metto a disposizione posso anche mettere a disposizione sul mio Dropbox e vi do l'indirizzo devo ragionare un attimo su perché posso avere anche un Dropbox condiviso e a tutti quelli che mi comunicano la loro mail posso anche far avere questa informazione forse la cosa più semplice è questa ci ragiono un attimo su perché è da un po' che non lo uso ma ce l'ho visto che tra l'altro io l'abbonamento lo pago potrebbe essere anche il modo per far girare queste ed altre presentazioni che abbiamo sull'argomento va bene mettiamo su Dropbox a gratis i documenti di Eccostituto sì sì devo metterceli però però poi mettete un link è gratuito no no vabbè d'accordo ma tanto per avere un riferimento tanto va bene ma scusami poi mettete un link sulla pagina Facebook se no la gente non vi trova per no no ma io sì certo però posso anche però non tutti accedono a Facebook e questo era un altro problema per esempio appunto il presidente del Nautico mi ha detto questo cioè loro non sono amici di Facebook quindi c'era un po' un problema forse però passiamo facilmente in questo modo ripeto io Dropbox ce l'ho ho la cartella condivisa ne apro una specifica per questo e comunico a tutti quelli interessati compreso appunto canali appunto quello che potrebbe essere anche Facebook chi vuole può accedere e trova questi documenti che nei prossimi giorni sarà mia cura mettere intanto vediamo giovedì cosa ci dice il progetto Giovani e vediamo se da parte di Maresca arrivano notizie buone comunque andremo adesso Enzo se vuole ovviamente andare insieme a perorare la nostra causa perché bisogna anche convincerli che può essere utile perché facciano le cose buone che devono fare vedremo se riusciremo ad essere convincenti bisogna guadagnarselo ma bisogna anche che loro abbiano tutto sommato un minimo di decenza perché di solito mi sembrano piuttosto così riottosi ma sai questa cosa che abbiamo già questa partecipazione condivisa mi pare importante perché non siamo quattro gatti così che vogliono far casino per il piacere di farlo è un discorso serio ma come ben sappiamo è un problema un problema che aiuteremo a chiarire anche con i nostri limiti ovviamente poi Arpal farà la sua ma ci mancherebbe altro questa partecipazione popolare mi sembra estremamente importante io per prima sono curioso di capire come vanno le cose insomma come andranno e se riusciremo ad essere convincenti ripeto anche perché il progetto costa quella cifra è importante ma può essere fatta anche come dire per step progressi successivi quindi potremmo anche già fare subito alcune cose e poi aggiungere le altre man mano che eventualmente il finanziamento perché no l'autofinanziamento lo completa tanto la minirete c'è già ripeto giovedì avremo un altro punto di monitoraggio quello di Prado dovremo a breve mi pare riattivarlo Koyana accennava che loro vorranno dotarsi in un altro ulteriore campionatore tanto procediamo così poi si arrivano i fondi ecco tra l'altro Susa Moretti forse magari se ci fai avere notizie sulla vostra tempistica ecco per avere un po' di centraline già pronte come quanto tempo ci vuole perché può anche essere che i tempi si accelerano ecco se ci fai sapere qualcosa sì sì certamente insomma anche di quelle tradizionali che possono andare bene in questa fase visto che i tempi sono stretti ma ecco capire un po' questo qual è la vostra capacità anche di calibrazione stiamo preparando diciamo il nuovo modello va bene altri tipi a qualche misura in più sì sì lo so lei ne aveva già parlato la volta scorsa è più facile raggiungerne anche altri va bene d'accordo grazie a tutti allora se non ci sono altri interventi io vi saluterei e ringrazio tutti